Eccoci tornati con un nuovo video. Oggi parleremo di un SMG di Gentile, che si trova su Romita, nella Merida Metroplex. Come al solito sponate, prendete il veicolo e fate questa strada. Di qua. O scendete. Là c'è il checkpoint. E qua c'è il boss da uccidere perché ho palla. Adesso vogliamo ucciderlo. Questo punto qui ti corre dietro. Sto cercando di colpirlo. Allora. Allora. Perfetto. Non scappare. Buonissimo. Vediamo se riesco a ucciderlo. È quasi morto dai. E potrete continuare a godere della mia bellezza. Ah. Ok. Vediamo se la data... Potete dire che non te l'avevo detto. No, ok. Vado in off-cam fino a trovarla. Allora. Forse... Se riesco... Eccola qua. Un attimo. Le faccio pulizia. Eh, si è bugato. Eccola qui. Guardate come è strana. Vi faccio vedere l'abilità speciale. Spara dei proiettivi. È abbastanza normale. Ma se la lanciate... Si trasforma. Diventa un cervello e comincia a sparare... È nemico e esplodere. Adesso ci puliamo. Lo vedete. Un'arma carina ma... Di che. Puliamo su un altro nemico. Un attimo che vediamo cosa c'è qua. Ok, no. Non mi interessa. Andiamo a testare sul robot. Vediamo se ne trovo. Va bene anche i veicoli. Vedete se potete non tornare tantissimo. È divertente ma consuma troppo munizioni. Guida finisce qua. Ci vediamo in un prossimo video. Grazie.